Don Dio, è qui, qui, quello che arriva a casa non trova l'atteggio, prende la macchina sotto il braccio, suona il ciclo e spendo 30 secondi la sua moglie non gli risponde e lui si inalvera sulla canala con la macchina sotto il braccio, sconde la porta, entra e dice tutto proprio. Anche quando entraェ in casa nonama tutto il ciclo e io e anche quando arriva a casa è vivere e deve essere scama con i gigliari di anche, viste, l'uomo vero quello l'ha canciato con lui però i gigliari lì perché l'uomo vero è après l'unico che si fa abbiamo fatto la biglienza con il fucileo e tutti i piccioni morti del testo, l'uomo vero il gigliari avanti la giudo, il servo è tutto, almeno se la mantiennent. Guarda solo il calcio e da quando comincia la partita nessuno gli può più rivolgere la parola. Gli è morta la società durante i tempi, gli hanno complicato la domenica sportiva all'ordine, se non sappiamo. Per un uomo vero si matletta quando decide lui, la luna di tutti i figli ha detto che è l'ordineo, ragazzi. Eh, la voglia dell'ordineo per le scappeggite, eh. Eh, perché l'ordineo per gli spennato tuoi per casa come gli spiccioli, ragazzi, eh. C'è un uomo vero, ma questo uomo vero è brutto, non c'è più. Oggi c'è l'ordineo per la casa, non c'è più.